Cosa ci può essere di meglio durante le feste natalizie, nello specifico Santo Stefano, che andare allo stadio? Infatti noi oggi andiamo a vedere il Brescia-Palermo e vi porto con me. Il Brescia e il Palermo hanno una data in comune, il 27 novembre. Diciamo non per lo stesso motivo. Al 27 novembre risale infatti l'ultima vittoria del Brescia contro la Spal 2-0 ed è l'ultima invece sconfitta per il Palermo, subita per 1-0 nei confronti del Venezia. Ma non è finita qua perché c'è anche un nuovo allenatore in casa Brescia, Aglietti, che sostituirà Clotet. Vediamo un po'. Assente anche super importanti nel rapporto difensivo perché manca Karacic, manca Adorni, manca Cistana, però è ritornata dopo tante partite Capitan Bisoli. E che bello invece vedere al fianco di Moreo davanti sia Galassi che Bianchi. Sapete ormai bene che sono i miei tutti pilli. Tra l'altro, ma non so se si sente, c'è anche la musica di Natale. Speriamo che i giocatori non abbiano mangiato troppo farettore a Pandoro, eh. L'ultima vittoria, tra l'altro ero qua contro la Spal, quindi speriamo anche di portare bene oggi. Tra l'altro il Brescia ritrova Corini, vecchio allenatore, vecchia conoscenza ovviamente del Brescia. e come mi ricordo mio papà, Matteio, madonna, un giocatore inguardabile, inguardabile. Quarto minuto, prima occasione per il Brescia, reclamano anche il rigore per fallo di mano. Non ho visto niente, infatti tutto buono e ci ricordo insieme. Finisce il primo tempo, partita noiosissima, noiosissima. Quasi come la mia perretta. No, la mia bruttissima, un po' brutta brutta. Una bummerata, così. Un po' di bianco, non c'entra niente, però vabbè. Cosa mi dice sulla partita? Noiosissima. Ti aspettavi questo Palermo? Io assolutamente no. No, no, aspettavo di più dal Palermo, il Brescia ha fatto un po' di più delle ultime volte, ma si voleva poco, ma mi ha tirato in porta le due partite, almeno qualche giro l'ha fatto. Modestia francescana, modestia francescana. Arbitro, arbitro secondo me, scandaloso. Non ha avuto da fare grandissime cavolate in questo momento, perché appunto la partita, noiosissima, non stanno giocando per niente le squadre. Ma si può niente, lo vedi? Proprio che arrogante che è qua, come per dire... Ti vuole stare a casa a mangiarmi, ragazzina ripiena... No, dai, raccontalo a tutti, raccontalo a tutti quello che hai detto prima. No, Marinelli dice in giro, l'ha detto a un mio amico, che poi me l'ha detto, che lui si sente arbitro di Serie A. Speriamo in un secondo tempo migliore. Sì, sì. È stata clamorosa di letterini. Uno a uno, dopo neanche 30 secondi, marazzante. Esattamente 11 secondi. Non c'è. Mi ho chiesto più spettacolo, quello sta arrivando, però ecco. Bellissima risposta dei tifosi del Palermo, ai cori del Greco, ovviamente, come sempre, dei Teru. Riposta anche loro, Teru, guardate quale clip. Arbitraggio completamente diverso nel secondo tempo, ma all'opposto non comunque buono, nel senso che se nel primo tempo non aveva mai fischiato niente, nel secondo tempo fischiava qualsiasi cosa, aveva il giallo parecchio facile, soprattutto nei confronti dei giocatori del Brescia. Non so se parlare di una crescita del Brescia, perché comunque ho visto rispetto al solito, giocare molto di più con la palla a terra, buono. Però allo stesso tempo ho giocato dopo l'1-1, completamente, sempre, come se fosse sopra 2-0. Ecco, tornava indietro. Il secondo tempo, dopo l'1-1, praticamente solo Palermo ha approvato ultimogli, anche con tutti i fili da fuori, dal limite, calci d'angolo, ripartenze. Non è calcio da fare qualsiasi cosa. Tra l'altro su TikTok avevo detto più volte che sarei potuta andare durante il corso della stazione al Barbera, a vedere il Palermo. Il Palermo oggi l'ho visto, ma il Barbera probabilmente non a inizio gennaio, non a febbraio, magari quando sarà un po' più caldo, sicuramente andrà a venire. Un saluto anche agli amici di Bari, che stasera ci sarà Bari-Genoa, e avevo detto qualche settimana fa che probabilmente sarà in scesa. Non riesco perché stanotte ho un aereo, quindi mi era impossibile scendere. Niente, buona partita anche a loro. Un po' triste, chiuderemo con un pareggio l'ultima partita allo stadio che ho visto quest'anno. Si sa mai, magari la prima sarà Inter-Napoli e vedrò una bellissima partita, però dipende perché appunto sono in viaggio, come ho appena detto, quindi non so se riesco a tornare in tempo. Tra l'altro, ultima piccola chicca, l'ex ormai allenatore più utente. Ho scoperto che aveva allenato e aveva fatto esordire in Championship Bendingham quando erano al Birmingham. Cos'è? Ci aveva già visto lungo, eh? Cos'è?